Il man è il dominatore dell'universo! Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Kringer, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi Per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Kringer diventò il possente Battlekart e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto. La nostra amica Sorceress, Bene Tams e Orton. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skelly. E e ha 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 ha! Ahaha!